Mi chiamo Oggy Polman. Tra una settimana comincio la prima media e sono completamente pietrificato. Lui non ci vuole andare. È pronto. Se ti fissano, lasciali fissare. Tu non sei brutto e chiunque vorrà conoscerti sul serio lo vedrà. Richissimo. Hai mai pensato di farti la chirurgia plastica? Questa è già chirurgia plastica. Non è facile essere così belli. Wonder dal 21 dicembre al cinema.